Fischer è partner dei produttori di ceramiche sanitarie da tantissimi anni, ma con Alice quest'anno lancia per la prima volta in commercio una soluzione innovativa per il fissaggio a scomparsa delle ceramiche sospese. Per questo tipo di installazione, che è una ceramica back to wall, il sistema si chiama VB7 ed è una soluzione che permette il fissaggio senza alcun punto di accesso e di conseguenza una ceramica che è sicuramente più uniforme e un pezzo molto più di design. Dopo l'esperienza del VB7 abbiamo implementato il nostro sistema con il VB-Clicks che è la soluzione per ceramiche sospese con gli stessi principi, nessun punto di accesso per dover avvitare o svitare.